Musica Benvenuti cari amici di MobileOS.it Vi devo ancora una chicca riguardante il Kingzone N3 Stiamo parlando della sua custodia davvero molto interessante Infatti il Kingzone N3 può essere acquistato con questa custodia Una custodia devo dire che è molto bella in pelle posteriore Posteriormente viene sul fronte ancora in pelle E permette anche con questa apertura di parlare con la copertina chiusa E inoltre permette di vedere questo riquadro Quindi questo riquadro è visibile con alcune informazioni riguardanti Aspettate che lo riaccendo Riguardanti l'orario, la data E alcuni riguardano per esempio la connettività e eventuali notifiche E se silenzioso o meno Inoltre facendo questo swipe in questo modo Si va a controllare il player musicale Si va a poter scrivere direttamente sul calendario Oppure in fotocamera Andando su calendar vedete il calendario si apre in piccolo Invece andando su Torniamo indietro Anzi dobbiamo scendere Mi sembra così Esatto e qui c'è questa freccettina che ci fa tornare indietro Si va su camera e vedete ci viene aperta la camera La camera però vedete ci viene aperta in piccolo Quindi non più in grande E quindi possiamo scattare foto anche con la copertina chiusa Devo dire un Kingzone N3 che non smette di stupirci Direi quindi che è tutto Anche per questa piccola postilla alla recensione Ci vediamo alla prossima Cari amici di MobileOS.it Ciao